Casertano, ex cestista, ultimo in carico a Trapani, Tommaso Ricciardi è il nuovo prefetto di Pesaro. Il primo impegno che prende con il territorio è di seguire le situazioni di disagio economico provocate dal Covid e di operare per la ripresa. La prefettura in questi casi gioca un ruolo non secondario. Il prefetto è anche, come dire, mediatore un pochettino di quelle che sono non solo i conflitti ma anche le sofferenze sociali. Quindi cercare di collaborare ed essere il più possibile vicini a queste attività che devono assolutamente riprendere. Conoscitore delle Marche ma non di Pesaro, il prefetto si dichiara colpito dalla sua nuova sede dove proseguirà l'operazione di apertura alle visite già avviata. Il palazzo è meraviglioso. Tengo molto a proseguire l'iniziativa del collega che mi ha preceduto, quindi di dare la possibilità non solo alla cittadinanza ma anche ai turisti di visitare le bellezze artistiche, i valori culturali che sono racchiusi in questo palazzo ducale. Il suo arrivo coincide con la conclusione dell'iter che porta a Montecopiole e Sassofeltrio in Emilia Romagna, una perdita per la provincia di Pesaro che andrà seguita e governata anche dalla prefettura. Non discuto anche gli aspetti politici che sono alla base di questa decisione, però se dovessi dire che mi fa piacere assolutamente no. Poi ci sarà da gestire tutta la parte amministrativa burocratica, ovviamente con i comuni uscenti che dovranno poi ricollocarsi nell'altra realtà.